Amore, ma non è meraviglioso? Fa freddo fuori piove, fulmini, lampi e io e te qua sul divano a goderci una bella serie su Netflix. Sai cosa mi piacerebbe? Che arrivasse un angelo dal cielo e delicatamente con le sue ali porgesse un bel vascone di pop-corn fumante qua sul tavolino. Sai, è più meraviglioso, no? Beh, tutto non si può dire.